Come mai la Terra è rotonda? La Terra è rotonda per la stessa ragione per cui una goccia di pioggia e una bolla sono rotonde. Se possibile, un liquido prende naturalmente la forma di una sfera. Questo avviene se il liquido cade attraverso l'aria, come una goccia di pioggia, o galleggia, come una bolla. Quando la Terra si formò, era calda e liquida, e poiché galleggiava nello spazio, divenne rotonda. Quando poi la roccia liquida si raffreddò e si indurì, diventando solida roccia, la Terra rimase rotonda. Grazie a tutti.